Se vi dicessero che oggi è il vostro ultimo giorno, che fareste in queste ultime 24 ore? Io stavo per scoprirlo. Ciao, gnocca! Dai, entra! Ma la smettete! Che fa? La sai sbloccare, vero? Non è possibile! Il liceo sta quasi per finire! Almeno abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare! Abbiamo baciato molto, ballato molto... I miei sono fuori, sto organizzando una festa! Oh mio Dio! Ma chi l'ha invitata? Sta a vedere! Al liceo pensano tutti di essere immortali! Mamma dice che devi alzarti! Ma è sabato! Che è successo ieri sera? Di che parli? Non la smettete! La sai sbloccare, vero? È tutto il giorno che ho dei déjà vu! Al liceo pensano tutti di essere immortali! Attenta al camion! Quale camion? Non importa quello che faccia o dica, il giorno inizia e finisce sempre allo stesso modo! I miei sono fuori e sto... Stai organizzando una festa a casa? Sì, come lo sai? Rob! Che hai? Sto andando nel panico! Ti sei messa nei guai! Fidati di me! Mamma, secondo te sono una persona buona? Non importa quello che penso io, ma quello che pensi tu! Sociopatica ore 12! Ma perché odiamo Giulia? Come mai ora ti interessa? Ieri dicevi che ti faceva schifo! È stato molto tempo fa! È stato ieri! Giulia, ti aspetta! Se potessi vivere più volte lo stesso giorno, vorrei che quel giorno facesse la differenza e non solo per me.